In collaborazione con Un finale con il botto. Amici sportivi buonasera, abbiamo ritrovati ultima puntata della stagione di Zona Mista News dopo una settimana in cui il campionato cadetto è passato dagli archivi se non altro per le formazioni della pancia della classifica tra questa e la salernitana. C'era da aspettarsi questa settimana interlocutori a parlare di futuro, di mercato, della squadra di Verrà e invece in questi giorni abbiamo parlato e tanto del futuro della Lega B, del futuro della salernitana di riflesso, del futuro di Lotito e oggi praticamente dopo il l'ennesima fumata grigia di ieri alle elezioni dove Lotito ha usato, e la frangia che ha sponsorizzato Lotito, la stessa arma che avevano usato i suoi oppositori, cioè non facendo venire meno il quorum, oggi il Consiglio federale ha stabilito che entro il 31 di luglio bisognerà eleggere il nuovo presidente di Lega B. Numeri alla mano, una mossa che sorride l'operazione di Lotito, che ha bisogno delle squadre nuove, ha bisogno di convincere coloro i quali vacillano, punta apertamente alla presidenza di Lega B, punta al Consiglio federale che oggi si è riunito con il concorrente di Lotito, perché facente funzione c'è Andrea Corradino, vicepresidente di Lega, oltre che dello Spezia, che era in vantaggio ieri ma che praticamente le ultime 24 ore hanno ribaltato letteralmente le operazioni. Come se non bastasse in questo finale con il botto viene fuori anche la notizia, perché laddove Lotito dovesse essere eletto alla presidenza della Lega deve necessariamente cedere le quote a chi? A mezza Roma, Lotito è stato sempre Sibillino, ha detto vediamo, vedremo, poi è intervenuto Fabiani che ha detto certamente ci sarà continuità, certamente ci sarà a mezza Roma, oggi la bomba ad effetto l'ha praticamente innescata Longarini che ha detto addio alla Ternana e quelle che erano voci di corridoio di qualche tempo fa oggi sono molto molto più che sussurri, più che spifferi ma un vento forte, una sorta di tormenta o un tormentone che riecheggerà per i prossimi due mesi e cioè che Longarini possa prendere eventualmente le quote di Claudio Lotito. Longarini vicinissimo alla famiglia Lotito, tifosissimo della Lazio che ha sempre sognato di poter entrare nel club bianco celeste e chissà che l'operazione salernitana non possa essere un viatico per arrivare a Roma. Famiglia Longarini comunque di grandissima solidità economica. I temi non mancano, i tempi sono strettissimi, è l'ultima puntata, io ringrazio principalmente Vittorio Caligani per aver raccolto il nostro invito. Vittorio grazie per aver raccolto il nostro invito, mai come in questo caso la tua presenza da saggio, non del villaggio ma del villaggio olimpico del calcio di Serie B è fondamentale. Che cosa accade? È difficile immaginare un quadro, sta di fatto che la linea Lotito è passata, partiamo da questo. Innanzitutto le bombe, dobbiamo stare attenti, non so se fuori ci sono voragini che tu hai aperto con questa notizia. Lotito, io da tempo sostengo che l'unico uomo preparato che è in grado di dare un forte contributo per risolvere i problemi della Serie B è Claudio Lotito. Gli altri non vedo, negli altri, la qualità per poter superare questo impasse che c'è in Serie B, il fatto del denaro, del poco denaro. Basta portare un esempio, circa un mese fa la fondazione di Serie B doveva ripartire del denaro e se non si muove Lotito non riuscivano. E in quel frangente Lotito riuscì a far distribuire a tutte le società di Serie B 800 mila euro. Ed erano i giorni vicini al 16 di aprile quando bisognava pagare gli stipendi di gennaio e febbraio. Gli oro colato per le... Tra l'altro Lotito, al di là delle capacità che tutti dobbiamo riconoscere a livello imprenditoriale, è quello che maggiormente è al dentro delle cose della Serie A. E bisogna cominciare a ragionare a sistema proprio con la Serie A perché il denaro vero lo produce la Serie A e deve essere capace di comprendere, i presidenti di Serie A devono essere capaci di comprendere che le altre categorie, la Serie B e la Serie C, da come si chiama oggi, sono indispensabili. Il calcio in Italia, in Italia si fa il calcio dei campanili. L'esempio è dato dall'antagonismo, per dire, da città come Salerno e da città come Avellino. I derby esistono proprio per questo. I derby ci sono in Serie A, ci sono in Serie B e ci sono in Serie C, a secondo della gradatoria in cui si gioca. Per me Lotito è indispensabile. Pare, come giustamente detto tu, pare che nel volgere di 24 ore, anche in considerazione che qualcuno se ne sta andando, qualcun altro non ci sarà più, quelli che stanno arrivando sono, tra virgolette, del partito di Lotito, per cui c'è da augurarsi che entro il 31 di luglio questa diatriba venga risolta nel bene della categoria. Il bene della categoria però potrebbe essere, non dico il male, ma quantomeno l'incertezza per la Salernitana, perché, come giusto che sia, c'è un'incompatibilità tra il Presidente di Lega e la proprietà, in questo caso Salernitana, in poche parole, Lotito, come ammesso dallo stesso imperatore Claudio, è costretto a cedere. Il punto è a chi? Sì, allora non bisogna dimenticare che i regolamenti non vorrebbero che un dirigente, un Presidente, sia proprietario di una società di serie A e una proprietà di serie B. Lotito ha ottenuto la deroga che è tuttora in vigore. Quindi, secondo me, non è quello il contendere. Cioè, se fino ad oggi c'è stata questa norma, senz'altro Lotito dovrà provvedere, perché lo dice lui stesso, in colloqui che abbiamo avuto, lui stesso dice ma io non ho problemi poi a trasferire le mie quote, so io, al momento opportuno so io come fare. Intanto che mi elegano Presidente di serie B, poi so io come fare. Ma la Salernitana non soffrirà mai, tanto che io l'ho anche scritto. La Salernitana non soffrirà mai, ci sarà continuità. Con mezza Roma? Potrebbe essere con mezza Roma inizialmente, potrebbe essere una situazione ponte per arrivare a qualcosa di diverso. Bisogna verificare se queste voci che sono, come tu dici, rimbombate oggi sul nome di Longarini sono veritiere o meno. Certo è che Longarini ha fatto un comunicato che è esplicito al 200%. A Terni ha chiuso. Ha chiuso a Terni, ma anche perché poi la famiglia Longarini... Non è mai stata vista bene. Nonostante tutto non è mai stata amata a Terni, nonostante la solidità finanziaria, nonostante... forse per degli atteggiamenti avuti sin da quando sono arrivati a Terni. Parlavo oggi con dei tuoi colleghi di Terni, Massimo Lauretti per fare il nome, che mi accennava della situazione e diceva che no, assolutamente se ne vanno, la società non ha debiti, non ci sono neanche i calciatori, perché al di là di Meccariello, di un altro paio di giocatori, non è che ce ne sono tanti. Sì, infatti alla fine la Ternana, tutti a temere che possa rischiare l'eccellenza, però è un club appetibile. È una scatola vuota, ed in ogni caso è chiaro che si dice sarebbe bene fare tutto prima del 26 di giugno, prima della fine di giugno, però non credo che Longarini, pur venendo via... No, mi pare, scusami se ti interrompo, direttore, mi pare che entro il 15 giugno, perché altrimenti ci sono le prime scadenze... Sì, ma penso che l'ordinario da qui in poi lo garantiscano, perché anche per venderla tu devi vendere in una società efficiente, non puoi vendere società che poi debbono essere penalizzate. E secondo me, in ogni caso, anche se dovesse slittare alla prima quindicina o nel mese di agosto, le operazioni di iscrizione, poi dopo tra acquirente e venditore si faranno i conti tra di loro, insomma, non è... Questo è il mio pensiero, ecco. E vediamo un po' di messaggi a proposito di questo, al nostro sito internet tvogisarano.it, al link Zoramista News, Mimmo per Marotta. Buonasera Eugenio, la vicenda a Longarini mi preoccupa, per quale motivo lascia la Ternana a calcio? A livello societario ha lasciato parecchi debiti a Terni, negli anni ha fatto solo salvezze nelle ultime giornate, per quale motivo dovrebbe prendere la Salernitana? Speriamo non sia un Joseph Calabissi, in ogni caso mi auguro che lo Tito non diventi presidente di Lega B, ho letto che vuole ridurre le promozioni in A a sole due squadre, così avremo una Serie A e una Serie B rovinata. Io credo invece sia il caso di allargare le retrocessioni dall'A e le promozioni in A a quattro squadre, così si avrà una Serie A e una Serie B combattuta fino all'ultima giornata. Quest'anno Pescara e Palermo erano già retrocessi a dicembre, figuriamoci con il progetto dello Tito che fine farà la Serie A. Non sono totalmente d'accordo, Mimmo, su tanto di quanto hai detto. Partiamo dalla fine. È vero, Pescara e Palermo erano retrocesse dall'inizio, però era retrocesso anche il Crotone che invece si gioca le ultime carte negli ultimi 90 minuti, per quanto riguarda il discorso della Serie A, che certamente c'è una frattura tra squadre top club e squadre materasso. Sul discorso dell'allargare, non credo che allargare o stringere alza il livello qualitativo e per quanto riguarda Longarini, io naturalmente ho preso informazioni come da copione, come da mio costume, ma prima ancora di oggi, da sempre la famiglia Longarini può non avere fatto bene calcio, ma sulla solidità economica credo che la famiglia Longarini sia tra le più sicure, tra le poche certezze che ci sono in Italia. Vorrei invece un commento di Vittorio Galina. Edoardo Longarini, padre dell'attuale... Originale di Tolentino, se non sbaglio, o sono Marchigiani. Sono Marchigiani. Marchigiani. Edoardo Longarini, presidente dell'Ancona, porta l'Ancona per la prima volta in Serie A. Questo parliamo di 25-26, adesso non mi ricordo. Era l'Ancona di Marco Pecoraro e di Salvatore Russo. Bravissimo. Marco Pecoraro, che era diventato anche assessore allo sport del Comune. Ad Ancona. Bene, una bellissima squadra e va in Serie A. Mazzarano... E fanno anche una straordinaria cavalcata in Coppa Italia, se non sbaglio. In Coppa Italia vanno alla semifinale... Semifinale con il Milan. No, semifinale perdono con la Sampdoria. Con la Sampdoria. Presidente Longarini, che era il proprietario dell'azienda, che aveva vinto tutti gli appalti su Longarini. Autostrade... La viabilità attorno a Macerata, ad Ascoli e ad Ancona. Longarini, una esternazione dell'allora presidente del Consiglio, Pesarese, Forlani. Forlani. Arnando Forlani. Ecco, quindi per quanto riguarda la solidità, no. Poi stamattina esce anche un comunicato di questo avvocato Proietti, il quale dice che il debito della Ternana è erisibile. E loro se ne vanno lasciando la Ternana, se se ne vanno lasciando la Ternana senza debiti. Ma come dicevo prima, la Ternana, dal punto di vista tecnico, è una scatola vuota. Certo. Dal punto di vista dei debiti, se l'ha detto il suo avvocato, dobbiamo crederci, che ha detto anche di mettere a disposizione... Le carte. Tutti i documenti. Per cui su questo argomento direi che hanno lasciato molti debiti, no, non è vero. Io direi che oggi c'è stato un Consiglio federale che ha dato segnali importanti. In che senso? La Presidenza federale Tavecchio, Cosimo Sibiglia, cioè l'ala tavecchiana del Consiglio federale, tira per la riduzione dei format dei campionati. Guarda caso, oggi è stato stabilito che per essere ripescati in Lega Pro, chi dovesse presentare la domanda deve versare un fondo perduto di 300 mila euro, più una fideiussione di 200 mila, quindi è un pacchetto da 500 mila euro. Per di più, chi è stato ripescato negli ultimi cinque anni non può cadere di questo favorezzo. Quindi cosa vuol dire? Che secondo me l'anno prossimo, non essendoci la riforma, ci sarà in ogni caso un taglio. È possibile fare l'anno prossimo una Lega Pro a 50-52 squadre, perché ce ne sono tante. Faccio nomi così, la Maceratesi, il Mantova, l'Akragas che sta soffrendo, il Latina che sappiamo l'etrocesso non è stato acquistato da nessuno. Il Lega Rossi-Vicenze... La Latina però rischia di partire dai direttanti se non dovesse... E appunto, non fa la... Quindi dalle 60 attuali si riduce, dimagrisce, probabilmente fino a 50-50. Anche in Serie B c'è qualche società che non è in grado di... Che zoppica. Che zoppica. Quindi è partita una riforma occulta, se andiamo a guardare. Cioè non è stata deliberata la riforma, ma sono state prese delle decisioni in Consiglio federale. Cioè Gravina fino all'altro ieri si lamentava e si troverà con una Lega Pro che non ne sarà più di 60. Lega Pro che era prima di 90, poi è arrivata a 54, poi è risalita a 60. E adesso rischia di essere. Adesso rischia di essere di nuovo. Quindi bisogna guardare in questa ottica. E siccome i soldi non bastano, cioè questo l'ho scritto questa settimana, non so se ti ho avuto modo di leggerlo. Il professionismo in Italia esprime 102 club, 102 società. Non ci sono i soldi per sostenere l'attività di 102 club. Quindi fermo restando che dalla Serie A non vuole venire giù nessuno perché i soldi veni sono in Serie A. In Serie B c'è qualcuno che soffre e si potrebbe ridurre dai 22 attuali ai 20. E la Lega Pro inevitabilmente, proprio per il grido d'allarme che lancia Gravina, che non ci sono i soldi e che tante società, tra quelle retrocesse dalla Serie B e le altre che sono in difficoltà, ho portato prima l'esempio di Acragas e Maceratese, bisogna inevitabilmente comprimere. E il primo passo è quello che ha deciso oggi il Consiglio federale. Che in un certo senso è in linea con quella che era l'idea di Lottito. No, Lottito ha sempre detto, una Serie C ha 36-40 squadre e una Serie B ha 20 squadre. Perché, torniamo sempre a dire... I numeri non ci sono. Tanto, i numeri non ci sono. I numeri non ci sono. Poi, per di più, ci sono molte squadre di Lega Pro che sono sovradimensionate. Cioè, chi porta, ho detto io, ho portato un esempio, chi fa fatica a portare gente allo stadio, chi porta con mille euro di spettatori, un campionato che costa intorno ai 2 milioni, minimo intorno ai 2 milioni l'anno. Come si può fare? Allora, quindi, siccome lo Stato ha ridotto, il CONI, parlando di Stato intendo il CONI, il CONI ha ridotto gli approvvigionamenti per quanto riguarda il calcio. Ha chiuso i rubinetti. Ha chiuso i rubinetti. Noi dobbiamo chiudere però, perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, stasera è una puntata particolare, Vittorio. Enzo M, in tempo reale, il nostro sito internet ci scrive, caro Marotto, lei hai detto in apertura a famiglia a Longarini grande disponibilità economica, ma dalla dichiarazione dello stesso Longarini sembra sia proprio il contrario, e virgoletta. Purtroppo è arrivato il momento che avrei sperato non arrivasse mai, con immenso dispiacere sono costretto a comunicare la decisione alla mia famiglia di non poter proseguire nel dispendioso sostegno alla Ternana Calcio. Sbaglio? No, non sbagli assolutamente Enzo, legittima la tua osservazione. Però, come dire, insomma, è chiaro che poi in questo mondo potrei fare una sfilza di dichiarazioni che poi sono state puntualmente disattese, fa un po' parte del gioco, di smettere una società e d'amblè dare un colpo di spugna ad un club che non l'ha mai amato Longarini, si usano, credo, tutti... Bisogna dire che negli ultimi trent'anni la famiglia Longarini è sempre stata nel mondo del calcio, perché prima con l'Ancona, poi con la Lodigiani... Poi con la Ternana, io ricordo, nella Ternana c'erano fior di giocatori, che poi c'è un grande feeling con la Lazio, fior di giocatori che sono rimasti, io non ricordo, ce n'è un paio, che rimanevano in tribuna per uno sfizio, fra virgolette, della famiglia Longarini che gli pagavano sistematicamente degli stipendi faraonici e li tenevano tranquillamente in tribuna. Non dimentichiamo che Ternana Salernitana non si giocò, si giocò quella famosissima, tristemente per noi, partita fantasma, perché la Salernitana era andata lì, non si giocò per una cherella tra la famiglia Longarini e il comune di Terni, che gli chiuse il libero liberati, poi si rigiocò in maniera abbastanza atipica quella partita, la Ternana vinse, però insomma la famiglia Longarini ha fatto sempre un po' il braccio di Fertro, forte di una solidità economica, è chiaro, queste dichiarazioni sono vere, però... Le motivazioni, cioè non è che io me ne vado perché vado a Corfu, me ne vado perché mi sono stancato, me ne vado per tanti motivi, hanno cercato fino all'anno scorso, considerando che a gennaio, quando la Ternana era retrocessa, sono andati a prendere fior di giocatori con i quali si sono salvati, che hanno fatto un autentico miracolo. Siamo in conclusione, c'è chi mi chiede, Eugenio, ma cosa c'è di vero nell'accostamento Longarini-Salernitana? Io dico, la partita è aperta e naturalmente tutto ancora una volta dipende da questo benedetto nodo della Presidenza di Rega B, che poi è soprattutto una finestra sul Consiglio federale. Lotito punta alla Presidenza, se la spunta sarà costretto a cedere le quote. Longarini è uno dei papabili per rilevare le quote di Claudio Lotito e della Salernitana. Prima della pubblicità sei d'accordo, Galigani, e soprattutto sposeresti un'idea del genere. Come la accogli un'ipotesi del genere? Io mi riferisco sempre a Lotito. Se Lotito decide che questo fatto è reale e Lotito ha dato la sua benedizione è perché sa che venendo eventualmente la famiglia Longarini a Salerno c'è la struttura, c'è la sostanza per poter fare il campionato che Salerno chiede. Diversamente non credo, sappiamo che qualcun altro si è avvicinato in passato alla Salernitana e Lotito non l'ha voluta mai cedere. Per cui io non mi preoccuperei più di tanto se fossi... Così verrebbe meno anche il nodo dell'articolo 16 bis dell'Enoif. Sì, appunto, non è quello il problema. Andiamo in pubblicità subito dopo la seconda ed ultima parte di Zona Missa News in compagnia di Vittorio Galligani. Parleremo anche di futuro dal piano e sul piano tecnico. Restate con noi. Quattro minuti alle ore 21, seconda parte di Zona Missa News in compagnia con Vittorio Galligani. Parlavamo del passato di Galligani, insomma passato sui campi vittoriosi molto spesso di mezza Italia, se non di tutta Italia. 7-8 campionati lo vinti. Tra l'altro anche a Pescara A e B hai fatto, no? Pescara A e B. Proprio a Terni hai vinto il campionato con il grande della pietra... Con della pietra difensore centrale. Difensore centrale. Vittorio, insomma proviamo a circoscrivere situazione politico-calcistica anche perché ci sarà un'assemblea ordinaria della Lega B il 5 giugno ma che non potrà deliberare quindi non ci saranno elezioni. Si andrà a luglio, si andrà con le nuove società che arrivano dalla A e le retrocesse dalla A e le promosse dalla Lega Pro e Lotito si giocherà le sue carte. Dovesse vincere in pole position c'è Longarini che potrebbe prendere almeno una buona fetta del timone che Lotito sarà costretto a cedere. Intanto però guai a pensare direttore che si possa aspettare a luglio per programmare. Bollini ha il rinnovo in tasca. Un anno con opzione per il secondo in caso di play-off. Fabiani già sta lavorando sotto semaforo ed è ufficiale, la danno per ufficiosa, è ufficiale addirittura il ritiro Roccaporena che significa Angelo Mariano Fabiani perché è legatissimo al centro Umbrio tra Roccaporena e Cascia dal 15 luglio al 30 e passa di luglio. Direttore, che cosa serve? Intanto certamente chiarezza il prima possibile ma Bollini è artefice del 4-3-3. Che cosa serve a questa squadra? Come bisogna fare per mettere a disposizione Bollini il prima possibile dal ritiro o quanto prima il grosso dei giocatori che avrà per 42 partite? No, io direi che non è tanto questo. È decidere innanzitutto la società, l'assetto societario. È questo. Perché se rimane lotito con Mezzaroma e i vertici della società è chiaro che buona parte di giocatori saranno magari orientati dalla proprietà a portare. Come Minala ce ne saranno magari degli altri, promettenti anche i giovani. Qualche giovane di quelli che hanno esordito quest'anno in A con la Lazio potrebbero venire a fare le ossa a Salerno. E cosa serve? Serve poi un confronto a 360 gradi fra direttore e allenatore. Perché quello, cioè tutti quanti, anche oggi ho sentito degli altri commenti, ma come si fa con Donna Rumma e Coda a giocare con il 4-3-3 e tenere fuori Donna Rumma? Poi bisogna vedere Coda cosa farà. Potrebbe anche essere che Coda va in ritiro con la Lazio in attesa di vedere le situazioni di mercato. Cioè sono una serie di cose. Donna Rumma è dato per partente. Sì, poi mi pare che i rapporti con il procuratore di Donna Rumma non è che siano idilliasi, per cui Donna Rumma penso che non abbia problemi di mercato. Però certomente è stato depauperato dal suo valore, no? Sì, è stata un po' svalutata la sua valutazione. Direi che il discorso sul futuro, al di là dell'ordinaria amministrazione, che è quella del ritiro, quella delle piccole cose, dell'ordinaria amministrazione, dico io, bisogna aspettare un attimo. Bisogna aspettare per vedere proprio l'evolversi di questa situazione. Però direttore, aspettare quando? Al 30 di luglio? No, aspettare magari la fine già dei primi di giugno. Ma non credo che nei primi di giugno ci sarà il consiglio, l'assemblea elettiva del... No, bisogna vedere. Io penso che il discorso della cessione, l'eventuale cessione, se è vera, l'eventuale cessione di quote da Lotito a chiunque altro... A persona da destinare. A persona da destinare. Prescinda poi dal... Ma Lotito però, attenzione, fino a 24 ore fa Lotito era perdente contro Corradino, quindi Lotito credo che le quote della Salernitana le tiene fin quando non è certo al 100% di essere Presidente di Lega. Non lo so. E allora significa che già sa... No, non lo so perché Lotito potrebbe decidere di... Alienare comunque. Adesso noi trascuriamo una cosa. Sento proprio nell'ambiente, qua, quando vengo a Salerno, sento parlare di Mezzaroma che tutto questo entusiasmo di fare calcio, cioè il fuoco sacro del calcio, mi sembra... Non ce l'ha. Non ce l'ha. Questo è quello che sento dire quando vengo... Beh, Mezzaroma nelle rare occasioni in cui è stato stuzzicato sull'argomento, direttore, ha sempre detto io ho cominciato questa avventura con Lotito, puntini puntini. Bene, è un fatto di famiglia quindi, no? Quindi, cioè noi oggi potremmo fare mille supposizioni. È chiaro che proprio per la stampa queste notizie sono succose, sono pane quotidiano, è giusto che voi facciate queste considerazioni, però poi bisogna vedere se veramente andrà... Secondo te come andrà a finire? Andrà a finire, che se veramente l'operazione è in corso, è chiaro che poi se viene Longarini bisogna aspettarli in ogni caso, perché? Perché se per caso venisse veramente Longarini a Salerno, Longarini è un altro che gli piace parlare di Terzini, di Mediani e di Centravanti. Tu lo conosci? Sì, il grande, l'ho conosciuto che era ragazzo, ragazzino ad Ancona. Per dire, mi ricordo, ragazzino ad Ancona, i collaboratori di Lucarelli, l'attaccante, giocava nella primavera del Perugia, Cristiano, e lui diceva al padre che avrebbe voluto portare all'Ancona di allora Cristiano Lucarelli, che era giovanissimo. Quindi questo dimostra una certa conoscenza e una certa passione. E invece la competenza di Vittorio Galligani da fantacalcio a questa squadra, da 4-3-3, che cosa toglieresti, ma soprattutto che cosa inseriresti? Se si giova a 4-3-3 io dico che dovrebbe trovare un terzino sinistro, io parlo alla vecchia maniera, un difessore esterno a sinistra, perché non che Vitale non sia bravo, è bravo ma è portato molto ad offendere, e abbiamo visto che nel corso della stagione, nelle diagonali, ci si è stata qualche difficoltà, quindi i due esterni di difesa, secondo me, vanno. Bernardini, senz'altro va bene, bisognerà vedere, tu gli hai maturato, deve ancora farsi le ossa. A centrocampo a me Milano è sempre piaciuto, anche quando giocava con i ragazzi della Lazio, e questo, avevo visto l'anno scorso Ogier fare un buon campionato, questo fatto di ricorrere troppo spesso al fallo volontario, tra l'altro, l'ultima espulsione, quella che è entrata, proprio trascurare la palla per andare sull'avversario, una bella mezzala a sinistra, una bella mezzala a sinistra, e poi se si deve giocare con 4-3-3, i campionati si vincono con i gol. Allora, per arrivare a 50 gol, a 45 gol, chi li fa i gol, 35-40 gol in questa Salernitana, chi li fa, non ci arrivano mai. Quindi per arrivare a fare un campionato di vertice, servono due esterni che abbiano quantomeno in canna 8-9 gol ciascuno. Al netto poi del fatto che devi provare a confermare o coda, oppure a prendere uno di pari livello che ti porti in dote 15-16 gol. Il rush finale di Zona Missa News, Pasquale Zaccaria parlando di calcio giocato, ieri sera finalmente ho avuto una risposta chiara e diretta sulle mie domande, che già in passato avevo rivolto ad altri ospiti, che con diplomazia avevano sempre evitato di rispondere. Ora, considerato che una persona competente schietta, come il dottor Pasquale Gallo, che Galigani ieri era ospite nostro in TV, ha detto chiaramente che l'acquisto di rinosina e Ogerra evidenziano una certa incompetenza, ho sentito la trasmissione di nuovo, ha usato questo termine, da parte del settore tecnico. Io penso che sia meglio cambiare questa dirigenza tecnica, che già in passato aveva avuto incidenti percorso, soprattutto se vogliamo puntare su elementi giovani e di prospettiva. Buona estate. Vittorio. Per criticare, al di là delle amicizie, delle correnti che ci sono nel nostro ambiente, penso che quando è arrivato Rosina a Salerno erano tutti contenti, perché si pensava tutti... Che fosse il valore aggiunto. Coda e Rosina. Poi Rosina ha portato a giocare in un certo modo, chiaramente ha reso meno, però la sua, in un certo periodo del campionato, per dire, nella fase, nella pancia del girone di ritorno, quando sembrava che la Salerno si era risvegliata e potesse ambire ad arrivare in una zona playoff, Rosina stava offrendo un buon rendimento. dire che la scelta di Rosina, chi era l'altro? Oger. Dire una cosa di questo genere, mi sembra, Rosina ha un background importante, non mi sembra che sia logoro dal punto di vista fisico, io ho sempre detto che forse hai utilizzato in una maniera diversa, però dire che è stata sbagliata la scelta, non me la sento di dirlo. Forse sulla lunghezza del contratto si può discutere direttore. Sì, penso che anche chi gliel'ha fatto firmare si sia ravveduto un pochino. Allora, ancora ci scrivono, comincia il momento dei saluti, io, Davide, mi rinunciamento di Dicianove, Uge, non per farmi di affari tuoi, ma adesso ogni sera che farai in questa bella mezzoretta, mica ci vorrei lasciare soli fino a settembre, falla qualche diretta Facebook, noi ci siamo, ben volentieri. Poi, quest'estate, perché non si organizza, dice Pietro De Marco, una bella amichevole con un club europeo, un grande club di serie A, sono anni che a Salerno non si fanno amichevoli importanti, per far riavviginare la gente allo stadio. Poi voglio sapere quando partono i lavori di ristrutturazione per la REC in vista degli universiti. Si era parlato di sistemazione dei sedi origini in tutti i settori e della riapertura della Curva Nord, non si arriverà più, speriamo. Beh, credo che tutto giri intorno al concerto di Tiziano Ferro, per quanto riguarda lo stadio REC. Non credo, vi posso garantire che la REC ha bisogno di urgenti lavori di ristrutturazione prima ancora dei sediolini, perché veramente sta cominciando ad essere una struttura fatiscente, sulle amichevoli con un club europeo. Credo che in questo momento la Salernitana abbia altro da pensare. per quanto riguarda invece ancora messaggi da casa, grazie alla squadra di TV Oggi e a tutti gli ospiti che si sono alternati, scrive Dodger, ci siamo fatti compagnieri in un'intera stagione, un saluto a tutti con una considerazione a metà del sarcasmo e la provocazione. Giugni alle porte, zona Mister News, chiodo e battenti. Ma non si sa esattamente che ne sarà del futuro tecnico dirigenziale della Salernitana. Insomma, siamo alle solite. E come recita un noto tormentone musicale del momento, è proprio il caso di dire che l'estate è tornata. Vittorio, c'è questo magone che vivono i tifosi in questo momento per l'incertezza dettata, come giustamente dicevi tu, come facciamo a parlare di aspetto tecnico-tattico se non sappiamo qual è la proprietà? Direi che sono argomenti, come dicevo prima, che sono all'ordine del giorno in questo. Cioè, è la fame del tifoso che vorrebbe avere tutto e subito, però purtroppo per loro non è questo il momento. Ancora è prematuro. Raccontiamo che il campionato è finito l'altro ieri, no? Giovedì scorso. Ancora stanno lavando le maglie. Qualcuno sta ancora giocando. Purtroppo per noi non la Salernitana. Ecco, quindi stasera tra l'altro sta finendo il primo tempo di Carpi Frosinone. Nico, buonasera Eugenio, appena avuto modo di leggere i toccanti saluti finali dopo essere stato con noi tutte le sere della buona e della cattiva sorte non potevo esimermi da un commento finale. Tu ringrazzi il pubblico, ma un ringraziamento quantomeno di pari intensità dobbiamo farlo noi a te. Sei riuscito a creare un luogo aperto, democratico e rispettoso del pensiero altrui in cui scambiarsi amichevolmente pareri e sensazioni aventi come base da sempre e per sempre un grande amore nei confronti della Salernitana. Grazie per averci fatto compagnia. Ogni sera sono stati 40 minuti piacevolissimi. Grazie per gli aggiornamenti e grazie soprattutto per il dibattito e il confronto. Ritengo che abbia aiutato tutti noi da imparare un qualcosa in più. Concludo dicendo che fino a qualche tempo fa conoscevo solo il cronista nel corso di questi anni e grazie a Zona Mista News ho imparato a stimare anche la persona dotata di sagaci e onestà nei giudizi. Troppo buono. Sperando che il ritorno sia rapido. Un saluto a tutti. Altro giro, altra corsa. Noi ci saremo. Questa è una pizza minima. Mi tocca. Ci siamo. Siamo al momento dei saluti. Io ho volutamente postato sul sito tutti gli ospiti che si sono alternati su questo sgabello. Ospiti illustri, ospiti che ci hanno onorato della loro presenza spesso subbarcandosi chilometri sempre per rapporti di stima, presumo, amicizia e correttezza con il sottoscritto e ho fortemente voluto che ci fosse stasera Vittorio Galigani nell'ultima puntata di Zona Mista News perché Vittorio Galigani è l'esempio lampante di che cosa questa trasmissione, grazie soprattutto a voi, è riuscita a fare, è riuscita ad essere. Galigani oggi ha preso, non so se un treno o una macchina da Taranto. Sono in auto, sono in auto. In auto da Taranto e venuto in trasmissione esclusivamente per, spero, il piacere. Non solo... Io vengo sempre, a me piace, tipo la maniera, adesso senza fare i violini. No, anche perché già c'hai l'ospitata a cena stasera. Sì, sì. Tra l'altro ho dato in... Però devi dare una correzione perché stasera non sarai dal... No, stasera sono a Lettere in una struttura... Ecco, guarda questo, cioè è un paradiso. Addirittura, ecco. Con... A due passi. Una terrazza... Penisola Sorrentina, sì. Sì, vicino Gragnano in pratica. A due passi, cioè di fronte c'è uno spettacolo magnifico del Vesuvio. E credo che sia incantevole. Si mangia anche bene. Sì, benissimo. Io vengo sempre con entusiasmo a questa trasmissione perché ecco, questo è un modo di condurre veloce così. E poi il fatto che sarà per un fatto di età ormai stare a girare intorno agli argomenti non mi piace. E tu in questo sei maestro, cioè vai sempre diritto e penso che anche per questo gli ascoltatori siano contenti della tua trasmissione. Grazie, grazie. Del resto ho scoperto invece che io pensavo che Galigani venisse per me e invece adesso ho capito il motivo per cui... Non è vero, non è vero. Scherzo. Vengo per la trasmissione. Poi approfitto perché la campagna, cioè, ma vi dico, sono partito, ridiamo un attimino, mia moglie mi raccomando domani vai a Gragnano vai a comprare la pasta. E certo. E quindi c'è tutta una serie, perché proprio come famiglia ci piace questa zona, ci piace questo territorio. E ti garantisco, io non vado spesso in televisione, qui vengo perché proprio mi trovo bene. Grazie, grazie e grazie ai 70 e passa ospiti. Ecco, dovremmo solo togliere. Tagliate la 2, non piace a Galigani. Grazie ai 70 e passa ospiti, grazie alle numerosissime attestazioni di stima, grazie al rapporto schietto, sincero, anche conflittuale, civile che abbiamo avuto in questo anno. Oramai siamo praticamente abbondantemente al decimo anno e come ho postato i nomi di tutti, spero di non avere dimenticato nessuno, gli illustri ospiti che si sono avvicendati su questo scranno durante tutta la stagione agonistica, così ritengo doveroso, ma non per condiscendenza, ringraziare in primis chi permette tutto questo, c'è l'editore, Remo Lambiase, la proprietà, la redazione giornalistica, Capitanata da Marcello Festa, Barbara Albero, Monica, a cui va un grandissimo saluto, e Nicola Roberto e lo staff tecnico, Zio Lucio, l'omino del tombino Pino Cantarella per le esterne, l'indimenticabile Fabregas al secolo Carmine D'Atola, Peppe Maglio e chi in questo momento è in cabina di regia, il ciclista folle Giampiero Lodato. Grazie a voi, grazie agli sponsor, grazie a chi ci ha preferito, a chi non lo ha fatto, perché civilmente abbiamo provato a raccontarvi una stagione. Cosa dire? Ci auguriamo di poterci vedere a presto, sicuramente quando, come diceva, un gran bel film, quando le nuvole tornano a casa. Io posso fare un saluto? Certo. Io, a quella splendida, non è piageria, a quella splendida curva, ce ne sono pochi in Italia, ragazzi continuate che sono sicuro che prima o poi la Serenitana, meglio prima che poi, la Serenitana torna in Serie A. Grazie, ancora a Vittorio Caligani, grazie a voi, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Vuoi rivedere questo programma?